Signorina in questo squadra con noi, puoi commentare cosa ha comprato? Kronos... Vuoi spammare? Vabbè almeno Alc... forse perché sa di avere il Cauterase all'inizio, il foco al Cauterase al 60 A sinistra c'è... Androcchia Scusa, stavo dando una mano a... Nuv Non ha... non ha solo Art Blessing No, ok, ci esce Dani, non morire! Eh, avevo grabato quella puttana, porco dio Ci ho lasciato addosso io Andate tra, andate tra, andate tra, andate tra, andate tra Hai messo il muro enorme, oddio, che caponata Oh, è il mio culo, è il mio culo, è il mio culo, è il mio culo, è il mio culo Ti curo, ti curo, ti curo Porco Dai 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 dai, che poca vita Vado, vado a destra, basta a sinistra, vado a sinistra Tutto tuo Non lo vedo Che con la MIV ragazzi E' ancora, ancora qua, ancora qua Ancora qua, ancora qua Sempre dietro Androcchia, mi spara Ash qua, poca vita non all'escape Oh, oh, Androcchia mi ha trovato Salve Pure morta Ma che ho dato il marchio? Cazzo l'ho dato ancora ad Andre, porca miseria No, ma va bene Eh, devo darlo a Dani che era No, vedrò, vedrò Cazzo, MIV è morto, vabbè Dib è morta Se riesci da lì di più ad Andre E io non sto sul punto Ok, ok Sto facendo un po' l'aggro Merda No, fanculo, fanculo Sono arrivato a un millimetro da Da quella puttana lì Se la grabba avrà morta Presa Easy On my way Oh, c'ho la destra C'è Tarra con poca vita Fatto Io sento qualcuno che vola vicino a me C'ho la ulti anch'io, eh Dove ho saltato? Dall'anguino Io non ho volume per adesso, rega Al prossimo round lo metto Eh no, c'ho la musica Ma... Non l'ho finita Salve, signorino Makoa Ho presa Oh, aiuto C'è... Furia da me Furia da me Furia da me Poca vita Ha ultato per salvarsi La vita da Roma, va? Ci sono... Vivian a destra Vivian sì a poca vita C'era anche furia con poca vita Putin a destra? Eh scusa, ero troppo lontano Androcchia sopra Io scappo Sì ragazzi, viva una mira scandalosa Eh! 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 Finistra destra? ok ha funzionato però ho ingannato androchi in questo modo battene danny dalla ultima faccio bodyblock bello bello il ban bello il ban cazzo è morto però cazzo era bello il ban torna indietro cazzo ho sbagliato no perchè da quel lato lì ci penso a me porco ho dato il marchio aspetta ok ho dato a quello davanti è nel mio culo dietro androx è lento cazzo cazzo c'era ancora dietro androx dobbiamo stare attenti morta puria sburi è l'andata sinistra vivian morta morta io e io mi vedrà no dove cazzo è finita ma porco mi ha ultato androcchia ho cronos al 3 se vuoi se vuoi se vuoi stai anche fuori dal capo che qua c'ho ancora le mie cure allora se mi dite che sono nello spawn ulto e mi sarebbe una cura dai e sono lontano divietami in tempo cura gli altri cura gli altri prima cura gli altri tu copro andre finchè che riesco non sono riuscito a bannar nessuno cazzo vedi che però eravamo dentro il cazzo di cerchio eh eravamo dentro non possono far così perchè poi io sto dietro ma non è vero ma porco ma scusate mi ha fatto il cerchio apposta per non sbagliarsi più su no no ma il cerchio non vale cioè il cerchio non è giusto ma come non è giù quello si è l'unica cosa che non ha senso per il resto vanno tutte bene comunque questa mirth mi fa un po' nè dai pensavo peggio temevo peggio è da pc e ho visto una smirata scandalosa hai visto una smirata scandalosa vado a andare voltare a destra forse ok Ash Ash ha poca vista io sto tenendo Mako io sto tenendo Mako eh eh devo stare in cap c'è Vivian sulla scaletta Mako è morto ha un drocchie nel culo Vivian è morta dai 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 mi vo ok mi eh androcchia mi ha inseguito guarda che sono passato attraverso tu la fai curarmi Dani? eh no non ce l'ho insente ai secondi arrivo due uno no vabbè sono sono di nevo di vai te vai te vai te io da qua posso check in ara almeno vai avanti Andre anzi vai contro alla destra soprattutto arriva ma qua a destra guardati indietro buono può sultare Ash io può sultare bellissimo bellissimo eh però eh non abbiamo andato non abbiamo giusto vabbè vaffanculo perché guardate dove cazzo è Meeve Meeve l'avrebbe uccisa no aiuto no ma aveva troppa vita l'aveva anche il Lata Meeve non avrebbe fatto questo gesto salve Ash ha sbagliato lato della mappa credo no? no sono stato sotto ok furia è morta furia è morta ulti sprecata di Makoa faccio bodyblock androkya mi sta picchiando androkya c'è dietro androx si mi sta ultando ti sta ultando Andre faccio la ulti di Vivi eh ho dato il marchio a Danic che era finito vicino te grabo Makoa il tuo passo a sinistra mi devo preoccupare no cazzo sento metto lo scudo grazie furia al centro no cazzo ma androkya come mi spara Vivi è una poca vita metà vita cerco di farla niente l'hai Lata no cazzo no cazzo dietro 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 ragazzi siamo in 3 contro 5 vieni dietro vieni dietro vieni dietro vieni dietro vieni dietro ehm perchè mi hai preso contatto con con l'escape puntato mi androkya al centro ah una cosa a sinistra che mi ha colpito ok adesso c'ho raven all'uno aspetta come prossimo mi metto cauter es al 3 presa furia c'è a destra qua a sinistra scusate e androkya mi ha riflencato niente sempre raven all 2 io sono allo spawnio Andre non posso aiutare arrivo mi hanno anultato sempre androkya non mi posso aiutare no non posso fare niente posso provare a fare Vivian niente niente ' dal taglio marco b ah cerco di stare un po' più debby dietro a coprire fare место al genu su solo per ambelt gioco guarda c'è un attimo i nostri ritenment rispetto a quel che non chiamato st vive non ho cazzo di rizzo scusa vero non è vero non cazzo non ho manco cutters al 3 o se lo deve mettere non lo so ehmiv deve partire con cutters al 2 e poi Evan allune e poi cutters al 3 io sono a 570 io sono 2,2 3,2,1 no poi come cutters porrisce un attimo a cambiare però la cosa che loro adesso non ce l'hanno di cutters e comunque si sente che solamente ascia destra guarda ti metto lo scudo per dividere la mappa ma qua mi ha oltato morta nitta sono morto io non ancora non ancora non ancora sono ancora vivo però nella merda eh Vivian nel bufo del culo ehmiv ehmiv non fai un cazzo non fai un cazzo non fai un cazzo anche Tyra non mi sembra proprio improfessorata quando Tyra sei proprio diretti Cap è andato immagino non fai un cazzo comunque Frye secondo me ma tu la usi io Frye poco cioè la usavo appena uscita però boh poi ho smesso di usarla ma secondo me se usi io con due tank come cane atlas sei qui a sinistra c'è Ash si 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 perchè c'è il cane che aiuta i tank e puoi dare damage il doffio c'è Vivian in ulti eh comunque oh c'era Vivian in ulti si si ce l'ho io Vivian in ulti sopra sinistra c'è Androcchia attento Dani morta Vivian ce l'ho ce l'ho ce l'ho vetro vetro sta venendo a te sta venendo a te vieni giù vieni giù vieni giù è nella è nello stanzino merda ma dai cazzo ho fatto pure sinistra a destra certo che mi sono messo pure Evan ma non sbaglio un po' ha urtato ancora Vivian vado a prendere Vivian è andata a sinistra cerco di andarla a prendere presa no ha preso Makoah eh Vivian muori muori Vivian ok servizio sinistra c'hanno due flanker stavolta e Androcchia sopra salve on the block via dalla merda no non riesco ad aiutare MeV dalla morte vieni 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 no si che bene ascension ultimità è legato ultimità è legato ultimità è legato si riesce ma cazzo mi sta bloccando mi vè mi vè mi vè cazzo era così no nooo cos'è cazzarola cazzarola che timing di merda questo è stato timing di merda eh ho sbagliato io c'è destra Vivian eh non potevo sapere che tu avessi stato incontri mi vengono attenti Dani hai due spalle Dani attento ok ha ultato me non posso andare in contesa io eh non posso ok è andata Vivian bella droxxus è andato non è andato è grabbato androcchia buono fuori è andata non ulto non ulto andato mi punti androcchia già ritornata Vivian mucchia molto veloce ma sei riding a cazzo cronos eh si cronos catresa al 3 mi metto nimble al 3 vai easy ma che vuole e che cazzo vuoi ultimate is down cazzole da noi cazzo 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 si è messa adesso cazzo 3 e basta non ho nemmeno mai visto se justice vabbè cos'è justice con pure è difficile però io posso soltare subito una persona la ulto a destra trovi qualcosa di piccolo ma a destra c'è ma coi è pure ma coi è hash e anche cash cash dai razza vieni dietro vieni dietro vieni dietro vieni dietro è da sola è da sola non faccio abbastanza danno ma io sto puntando io sto puntando vivien 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 stannata qua da me da me da me da me da me ok eh ma noi i nostri damage sono morti stanno andando in cap stanno andando in cap stanno andando in cap culo laggo buono 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 androcchi nel mio culo ok standomiv forse sì standomiv non è vero torno no sto crashando sto crashando sto crashando sopra mi non riesce a fare androcchia sono in difficoltà grande grande fatto furia e androcchia raga mi sta inseguendo da dal vizio della partita eh non posso fra non posso non posso mi parla io non posso mi 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 spara lascia qualcosa non posso non posso più fare un cazzo lega non posso più far niente 0 ci vivono in capo ma farà non era vergognosa di più la ulti detto poca di usare la proposta per i piccoli orquilio ma coa siccome andre quel ma coi ha fottuti perché ci ha pushati troppo gli ha fottuti ma amami il loro androcchia era letteralmente ha fatto la tana dentro al mio culo dentro dentro e quando fai mi be scarsa era inutile non ho capito come ha fatto fare 18 che il ma inutile non riusciva a vincere 1v1 con androcchia col doppio bus cioè due bus io ho dato io 2 è scappata via è scappata via è scappata via e ovviamente lui mi ha ammazzato perché non è così cretino e poi ogni volta ovviamente guardando le morti andre 6 io 7 fra i 8 gli altri due 19 e 14 io 8 7 sono di androcchia vabbè una era di ma coa insieme ad androcchia però comunque su lui mi inseguiva proprio bravissimo madonna mia mamma mia questa qui la salvo cosa aspetta l'ora la salvo Grazie a tutti.